Quarto blocco, Sedato Blend, per il concorso di Elena Bonelli, fino al 31 luglio inviate il vostro materiale per questo concorso che non dovete perdere, ci sono dei premi importanti in denaro, quindi non lo perdete, chi vincerà potrà produrre il proprio disco con questi soldi, non sottovaluterei questa possibilità. Un saluto a tutti, mi raccomando, comprate il disco che esce a luglio. Quarto blocco, Sedato Blend, per voi. Ciao belli.